Buongiorno bambini e buongiorno genitori, io sono l'educatrice Veronica D'Arrigo e lavoro presso l'asilo Nidolatana degli Orsetti a Monte Argentario. Quest'oggi sto facendo questo video perché rivolgo il mio pensiero a tutti voi, in quanto purtroppo ciascuno di noi si è dovuto privare delle attività che è solito fare e questo reca a me molto dispiacere. Io vi voglio ricordare che a me mancate tutti quanti moltissimo e non vedo l'ora di rivedervi. Spero di tornare presto a fare le nostre attività. Ciao bambini!